buongiorno ciao ciao a tutti bentornati o benvenuti sul mio canale oggi prima puntata di disordine creativo numero 1 barra 2024 con i lavori che ho finito di maglia uncinetto pochi con i lavori che ho in corso non tantissimi due con qualche lavoro da iniziare oggi come vedete dalla mia splendida capigliatura sono riuscita ad andare dalla parrucchiera mi sono presa una giornata di ferie oggi è l'otto febbraio ma non pubblicherò oggi questo video perché non ho tempo poi di montarlo di sistemarlo però avevo tempo avevo preso una giornata di ferie e quindi me la godo in tutto e per tutto perché ben 27 anni fa la elena valsecchi e il paolo mauri si sono uniti in matrimonio ragazzi un evento pazzesco dopo 10 anni di fidanzamento finalmente questi due poveri cristi sono riusciti a sposarsi e il nostro amore eterno lo dico io ma è così dura ormai da ben 27 anni più 10 anni di fidanzamento quindi lo dico per le giovani coppie o per chi ha la paura che le cose possono andare male non saranno più le stesse sicuramente non saranno più le stesse ragazzi se voi vi sposate che avete 27 anni quando poi ne avete 54 e se sarete fortunati ancora di più le cose non saranno più le stesse ma viva dio viva dio io dico perché l'amore quello vero è un amore che si trasforma è un amore che cresce è un amore che diventa grandissimo immenso che non è più soltanto amore come può essere nei primi anni di fidanzamento di matrimonio dove c'è l'attrazione fisica dove c'è la voglia di stare sempre insieme adesso dopo 27 anni e 37 comunque che ci conosciamo a volte fa anche bene stare lontani o se fa bene se fa bene me lo direte voi che sono tanti anni che magari anche voi siete sposati però è un amore che diventa certezza che diventa conferma che diventa la forza della vostra vita e quindi è un amore che è sempre in cammino fino a quando il signore ci regalerà questo dono ma che muterà che muterà che cambierà che diventerà sempre più grande arriveranno i figli se sarà quella la vostra la vostra storia o magari non arriveranno neanche ma ci sarà sempre questa mutazione che ci permette di continuare a volerci bene ad avere l'amore ad avere l'affetto ad avere l'innamoramento anche se non siamo più come eravamo una volta siamo diventati più grassi siamo diventati più pesanti a livello psicologico a livello idee siamo diventati a volte magari più silenziosi meno energici perché la vita con tutto quello che ci porta e ci regala ci regala sia le cose belle che le cose brutte ma il bello dell'amore vero è quello di guardarsi ogni giorno e di vedere una persona diversa che ti fa ancora innamorare che ti fa ancora ridere che ti fa piangere che ti fa pensare ho scelto lui perché è l'altra parte di me anche se io sono una persona unica non ho bisogno di un'altra persona per sentirmi completa ma la sua presenza mi rende ancora più bella ancora più migliore anche se non si dice e speriamo che continui per tanti tanti anni quindi auguri a noi auguri a noi ma iniziamo il video creativo il primo video creativo del 2024 eravamo rimasti indietro di tanto ma sapete che mi piace proprio ho fatto un bel taglio la mia parrucchiera veramente brava ha fatto il colore perfetto e un taglio che mi piace un casino li ho accorciati un po sto divagando ragazzi sto divagando ritorniamo a noi avevo forse fatto un video creativo a settembre ottobre non mi ricordo più perché dopo con tutto quello che è successo non mi ricordo no forse ne avevo fatto uno prima di natale che avevo già cominciato a preparare qualche regalino poi per natale avrei voluto fare un video dove vi facevo vedere i regali finiti ma non sono riuscita ho fatto diverse soffi scarf che ho regalato ma finalmente ho finito il mio che non mi ricordo l'8t che è questo aspetta lo tolgo dalla busta che è questo qui è tutto paciuccato pasticciato dalla eli perché sapete che io ci faccio tutti i miei appunti il primo pattern in inglese che affronto ho scelto un modello davvero molto molto semplice che mi permettesse di sbagliare perché è tutta maglia rasata legaccio non ci sono aumenti e diminuzioni quindi sono andata via liscia ma mi piace davvero tantissimo ed eccolo qua finito adesso è piegato perché l'ho messo fuori a prendere aria ma poi l'avevo messo nel cassetto sullo sprone davanti e poi sul dietro c'è questa banda fatta a punto legaccio ed è semplicissimo il legaccio viene ripreso anche nel bordino dove c'è proprio un piccolo spacchettino molto molto carino scende bene ho avuto qualche difficoltà sulla manica perché nonostante la mia traduzione perché qui non ero riuscita a capire come era come era stato fatto ho provato a farlo in tutti i modi ho provato a farlo a legaccio ho provato a farlo con una costa sì una costa no quindi poi alla fine ho scelto io per una finitura con due dritti e due rovesci una costa semplice a due due dritti e due rovesci non tira e quindi è andata benissimo così è un modello che mi piace molto che ho già indossato è molto molto caldo molto molto caldo e l'ho eseguito con questo filato che per me è meraviglioso è un cotone gasato che non assomiglia assolutamente al cotone perché è caldissimo che avevo comprato alla casa del gomitolo e che a mio parere ma non solo a mio parere assomiglia al soft cotton della lang ne ho ancora 7-8 gomitoli e quindi vedrò bene come sfruttarlo perché è davvero un filato superbo mi è piaciuto tantissimo è morbidissimo voi non avete idea è morbidissimo e sono molto molto soddisfatta innanzitutto perché non ho trovato difficoltà nell'affrontare il pattern in inglese è vero che era molto semplice ma per me che d'inglese non capisco una cippa era già troppo e invece è andata benissimo così questo pattern fa parte di un libro di questa designer che si chiama Carrie Bostick che è Anthology 2 dove ci sono veramente dei modelli splendidi molto semplici molto lineari non sofisticati che mi interessano parecchio e quindi penso che ne affronterò sicuramente ancora qualcuno perché mi piace davvero tantissimo qui era proposto nel colore bianco ma devo dire che anche in questo colore che è un blu ma non è un blu accesissimo magari voi lo vedete però vedete no questo filato rende proprio la maglia molto molto regolare e splendida ecco questo è il colore giusto del filato davvero un pattern molto semplice ma che mi ha dato tantissima soddisfazione e questo è il primo dei miei lavori finiti allora questo gilet diciamo che abbiamo smanicato come lo volete chiamare voi in totale pesa 220 grammi quindi i gomitoli sono da 50 grammi io ne ho usati 4 più l'inizio di uno che è questo che ho tenuto così ho usato gli aghi del 6 e nonostante io abbia usato gli aghi del 6 comunque rimane leggero sì ma abbastanza compatto come vedete la maglia è rimasta davvero molto molto compatta molto regolare davvero un lavoro che mi è piaciuto tantissimo il peso appunto è molto leggero e scalda tantissimo archiviamo poi qui vi faccio vedere solo il pattern perché le cuffiette le ho regalate non sono riuscita a farvi vedere la seconda cuffietta perché l'ho finita dopo la messa di Natale perché dovevo regalarla e consegnarla a Santo Stefano ed è la prima avevo messo una foto sui social che vi riporto qua questa rossa la cuffietta rossa l'ho fatta per Lucas che è il bambino della famiglia cilena a cui noi siamo legati e la seconda l'ho fatta a righe bianche e rosse molto natalizia è venuta carinissima e l'ho fatta per Santiago che è il secondo figlio della nostra coppia di amici poi arriverà Mattias questo è il pattern di Purl So show vabbè quello che è è anche questo un pattern che ho affrontato in inglese cioè ragazze i ragazzi 2024 col botto parte col botto finito il 2023 col botto in tutti i sensi iniziato il 2024 col botto perché ho capito o forse sto masticando un po' di più la terminologia inglese e non è così difficile come pensavo e devo dire che questo pattern è veramente veramente molto 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 bello molto semplice d'effetto sulla testa dei bambini sta divinamente e sto pensando di farlo anche per me è in varie misure affrontabilissimo affrontabilissimo dalla fotografia vedrete quello rosso che abbiamo regalato a Lucas l'ho fatto con la drops merino extra fine uno rosso e l'altro bianco e rosso me ne è avanzato ancora un po' chissà dovrei portarmi avanti con i regali di Natale dell'anno prossimo e ho deciso che in questo 2024 vorrei proprio fare così iniziare proprio dai mesi appena iniziati per poter fare dei lavori che poi regalerò a dicembre perché non si può mai cosa può succedere perché almeno arrivo preparata a confezionare i miei regali e questo è il secondo pattern finito ma ne ho fatti ben due di cappellini ben due per questi modellini invece anche qui mi sono basata sul consiglio che ho trovato sulla fascetta del filato ho fatto la prima prova ho preso proprio la misura non quella da neonato ma siccome Lucas ha proprio la testina piccolina piccolina ho fatto la misura di un anno o due e ho visto che poteva andare bene e ho continuato però ho usato proprio gli aghi del 4 mm come è indicato sulla fascetta e con questo modello devo dire che non si è ammorbidito non si è allargato troppo perfetto, davvero perfetto questo modellino per i bambini poi questa era stata la prima opzione da regalare ai due bambini ma capite voi che è venuta una cosa gigantesca ho preso il pattern di drops questo molto 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 carino e quando ho scelto la misura io ho scelto la misura 2-4 anni mi sono resa conto che andava bene a me è vero che la testa di un bambino di 4 anni poi rimane così non cresce più e quindi va bene per un adulto ma questa cuffia va bene a me anzi a me è larga va bene a Lucia che ha tantissimi capelli ma adesso ci metterò un elastichino trasparente qui in fondo che la tenga un attimino allora è il mio primo lavoro io dico jacquard ma jacquard jacquard non so come si dica ragazzi fireisle fireisle mamma va bene io non taglio la lascio così chi proprio non vuole sentirmi bestemmiare cambia canale e a parte alcuni punti che mi sono venuti un po' strettini ma era veramente la prima volta che affrontavo un lavoro del genere posso ritenermi soddisfatta perché mi è piaciuto tantissimo fare questa tipologia di lavoro anche qui i filati che ho usato sono gli stessi che vi ho mostrato prima quindi l'amerino extra fine della drops che è il filato consigliato proprio in questo modello e devo dire che se per questo modello il filato ha tenuto benissimo probabilmente perché è lavorato a legaccio o comunque perché i modelli erano molto molto più piccoli qui una volta lavato si è proprio lasciato andare quindi io pensavo che potesse andar bene ai bambini e invece è rimasto troppo grande e quindi l'abbiamo destinato a Lucia che l'anno prossimo lo sfoggerà con molto molto piacere perché lei se ne sbatte di avere 20 anni e va in giro con la cuffia con le rennine beata lei che non si fa nessun problema per la cuffia invece mi sono basata sugli aghi qui non ho fatto assolutamente nessun tipo di campione ho seguito le istruzioni che ho trovato sul modello poi vi ricordo che tutte le indicazioni ve le lascio nell'info box questi sono i lavori finiti adesso ho un lavoro che è finito per metà nel senso che è finita l'esecuzione a mano ma che devo ancora terminare perché la vorrei ricamare vorrei affrontare il ricamo su lana allora che cosa ho fatto un semplicissimo tubo lavorato in tondo proprio semplicissimo e diventerà una fascia diventerà una fascia perché poi si adesso non so più come sia la cosa comunque è così si cuce così si cuciono i quattro strati si gira traccheta e la fascia rimarrà vabbè adesso qua non è che lo vedete proprio bene però rimarrà così e io però volevo fare in questa parte e in questa parte un ricamo su su lana insomma è la prima volta che ricamo propriamente proprio con i punti classici quindi punto erba punto pieno e volevo provare questo è il regalo che non ho ancora dato alla fidanzata di Pietro pensate voi mi sono scusata ma perché era il periodo in cui c'era la mia mamma che non stava bene e so che la fede è una ragazza molto paziente appena lo terminerò farò una bella foto ve lo mostrerò perché poi dopo lo devo consegnare e lo spunto diciamo l'idea che vorrei fare è un ricamo tipo questo la fascia poi verrà così una volta cucita verrà così lo spunto è questo magari non questo tipo l'uge di ricamo però una cosa davvero molto molto semplice così questa è una foto che ho scaricato da Pinterest però volevo più o meno una tipologia di ricamo di questo tipo e quindi vediamo un po' se mi viene non sono sicura ma ci proverò ci proverò e questi per quanto riguarda la maglia sono tutti i lavori che ho finito passiamo ora ai lavori in corso non mi pare di avervelo fatto vedere iniziato se non con qualche fotografia sui social avevo intenzione di iniziare questo bellissimo scialle che avevo visto da Iris la trovate sul canale un po' di leggerezza con Iris qui su YouTube è un'amica che fa dei bellissimi lavori sia di maglia che di uncinetto legge insomma abbiamo tantissime tantissimi hobby in comune tantissime passioni in comune mentre guardavo un suo video lei lo stava indossando e ne ero rimasta colpita per la bellezza di questo scialle è uno scialle di Valentina Cusciani questo è compreso in una raccolta di pattern che ho acquistato su Raverly non mi ricordo come si chiama la raccolta ma questo in particolare si chiama Roser e così ce l'avevo lì in stand by da fare quando ho visto il filato Ellen di Lollocrea mi è sembrata davvero l'occasione giusta perché è un tono di rosa spettacolare e così ho iniziato questo scialle l'ho iniziato e poi l'ho disfatto perché ho sbagliato completamente innanzitutto ho sbagliato a montare gli aghi qui sto lavorando con dei ferri del 4 stupidamente avevo montato i ferri sbagliati avevo montato i ferri del 5 su queste tipologie di di lavori io non faccio il campione ma sto completamente abbandonando l'idea di fare il campione perché io faccio il campione ma poi non corrisponde mai o meglio il campione corrisponde poi quando il lavoro diventa grosso diventa pesante quando lo si lava non corrisponde mai e quindi ho deciso che probabilmente non farò più i campioni ma tralasciando questa cosa continuavo a lavorare continuavo a lavorare ne ho fatto circa un pezzo così ma mi sembrava moscio troppo morbido non aveva consistenza poi ad un certo punto guardo e dico ma fammi vedere se cioè come mai questa cosa guardo ho montato gli aghi del 5 e a malincuore mi sono detta Noeli no rifacciamo e quindi ho rifatto ho rifatto completamente poi era il periodo di Natale quindi avevo un po' di cose da finire quindi adesso ho ricominciato così devo dire che mi piace proprio tanto e questo colore rende veramente giustizia a a questo scialle perché mi piace proprio tanto poi vabbè andrà sicuramente bloccato però vedete che si vede proprio bene cioè è proprio proprio bello poi tra l'altro non lo trovo neanche difficile perché una volta memorizzata la successione dei punti riesco tranquillamente a farlo anche mentre sto guardando un telefilm oppure mentre ascolto i podcast e quindi devo dire che è un lavoro molto molto piacevole molto bello che spero di finire in tempi abbastanza brevi abbastanza brevi come vi dicevo il filato è il filato Ellen non potevo esimermi dal comprarlo visto che si chiama come me poi soprattutto con questa tonalità che è spettacolare e il rosa è uno dei miei colori preferiti che penso mi stia molto bene non ricordo la composizione vado a cercare la fascetta perché probabilmente è dentro in un altro sacchetto e torno così vi dico qual è la composizione di questo meraviglioso filato non ho trovato la fascetta ma sono andata sul sito delle Lollocrea e il filato Ellen è 60% lana merino extra fine 40% poliamide gomitoli da 100 grammi 270 metri io ne ho un bel po' e quindi sicuramente riuscirò a finire questo scialle no vabbè potrei chiamarmi la signora disagio e non Eli perché la telecamera si stava scaricando ma ero convinta di averla messa in carica e invece il filo era fuori dalla presa I am disagio va bene ultimo lavoro che ho in corso è questo di Federica Knitt Ruscello incantato la nostra carissima Federica giudice che sicuramente sapete tutti ha avuto una dolorosissima perdita nelle vacanze di Natale il papà se n'è andato e loro sono stati coinvolti tutti in un gravissimo incidente stradale io di mia iniziativa quando purtroppo ho saputo questa notizia ho pensato di starle vicina così a livello personale scegliendo un un modello che avevo acquistato qualche tempo fa sul suo store di Raverly e così ho iniziato ho iniziato a lavorarlo poi sul web si è aperta questa così solidarietà amichevole per sostenerla a livello così economico ma anche così soltanto per sostenerla a livello di amicizia e così mi sono aggregata anch'io devo dire che questo è un modello meraviglioso davvero meraviglioso è la prima volta che affronto la manica la lavorazione della manica contiguos io non l'avevo mai neanche presa in considerazione mi sembrava una cosa veramente molto molto difficile e devo dire invece che con questo modello e con le spiegazioni di Federica è andato tutto tutto liscio allora sono ovviamente all'inizio il colore che ho scelto per questo per questo lavoro è questo color senape che mi piace tantissimo la lavorazione è meravigliosa davvero meravigliosa molto semplice davvero molto semplice mi piace proprio tanto questo anche decoro che forma la la spalla davvero molto molto bello spiegato nei mini particolari non ho avuto nessuna difficoltà il filato che sto usando è carisma della drops ne avevo una scorta grossissima e nonostante sia un filato non propriamente morbidissimo perché se qualcuno è un po' così allergico al pizzicore questo non è proprio diciamo come quello che ho utilizzato per fare lo smanicato ma a me che sono abbastanza primitiva non dà assolutamente fastidio e quindi ho utilizzato questo filato che mi sembra tenga molto molto bene la lavorazione poi a me la lavorazione legaccio è la lavorazione che mi piace di più è davvero molto molto semplice e adesso sto continuando sto continuando questo modellino che davvero mi sembra molto 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 bello qui io ho fatto il campione il campione era perfetto con le indicazioni di Federica e ho scelto la taglia aspettate che ve lo dico ho scelto la taglia L anche se c'era la possibilità di fare la XL perché mi sono resa conto che tutte le volte che scelgo la taglia che al momento come misure mi si addice poi alla fine diventano troppo larghi troppo grandi e siccome sono già cicciotta e rotondotta di mio l'esperienza mi ha insegnato che se il capo è diciamo perfetto e non abbondante sicuramente l'effetto sulla figura è migliore e quindi chissà magari riuscirò anche a perdere qualche chilo ma questa è solo una speranza perché ogni volta che mi ci metto di buzzo buono succede qualcosa che a livello emotivo psicologico mi porta fuori e quindi io non riesco ad affrontare nulla ma chissà mai che magari questa sia la volta buona comunque questo è l'ultimo lavoro che ho diciamo iniziato poi veniamo invece a dei lavori ad uncinetto che ho finito e siccome li devo consegnare perché ce li ho qua da una vita perché li ho preparati per Natale ma tra una storia e quell'altra non sono più riuscita a consegnare alle mie amiche spero di consegnarle e poi di pubblicare il video non riesco neanche a vedere se sono a fuoco se non sono a fuoco perché qui è un gran casino non ci vedo proprio più allora questi sono stati dei prototipi che io ho fatto perché a Natale siccome non ero presente al gruppo missionario in maniera fisica ho detto vabbè cerco qualcosa da fare per la festa della mamma per il banchetto della festa della mamma che posso fare tranquillamente a casa e così ho trovato questo pattern a pagamento su Etsy Teeny House Cakeover eccolo qua poi anche questo ve lo linko sotto che non è propriamente come quello che io ho fatto ma volevo riuscire a capire un po' come era la costruzione poi qua ci sono varie tipologie di casetta c'è diciamo quella che si interrompe un pochino prima da sotto il tetto diciamo quella c'è la possibilità di fare come ho fatto io e poi da qui io sono andata a ruota libera e quindi ne ho già fatte di casette circa una decina queste poi le ho fatte da regalare da regalare alle mie amiche e quindi pian piano andranno ad essere decorate ad essere decorate qui questo è un portachiavi qui in alto vedete si tira su le chiavi si andranno a nascondere e poi voi ritirate giù con l'anellino è molto molto semplice il meccanismo e io ho pensato di farla in maniera davvero molto molto semplice due cuoricini tagliati con la big shot un bottoncino con scritto handmade e la porticina che per le prime versioni che avevo fatto avevo ritagliato l'avevo doppiata poi l'avevo girata e poi l'ho cucita con terra ma poi quando si fanno le cose più volte si trova anche il metodo più semplice soprattutto perché lavorare su delle misure così piccole è abbastanza difficoltoso quando la casetta è già costruita e quindi ho applicato una carta adesiva per tessuti ho ritagliato della misura della porticina con il ferro l'ho stirata e poi ci ho fatto a punterba diciamo la divisione della porta e l'ho fatta in queste versioni questa col verde acido e l'azzurro questa un po' più rusticotta che mi piace tantissimo questa molto delicata devo dire che sono molto soddisfatta vabbè quando mi metto di buzzo buono riesco a fare anche delle cose carine e questa anche questa davvero molto molto carina sono tutte di mio gusto spero che possano piacere anche alle mie amiche quindi adesso continuerò a produrre casette e poi insieme al gruppo missionario alle amiche del gruppo missionario le decoreremo eccole qua tutte insieme nel loro splendore devo dire che non è un lavoro veloce io in una sera riesco a fare l'intera casetta poi però per applicare tutti i particolari ci si mette ci si mette un pochettino anche perché questo poi è rifinito a mano il bottoncino è attaccato a mano quindi comunque c'è un po' di lavoro un po' di lavoro da fare però l'effetto l'effetto mi piace molto questo bordino smerlato l'ho inventato io non che abbia inventato chissà che cosa ma nel pattern non c'era anche perché poi alla fine non ho preso molto del pattern ma va bene così mi è servito proprio come indicazione e quindi ho anche un po' cambiato il pattern iniziale diciamo ma sono davvero molto molto contenta almeno a me piacciono piacciono proprio tanto sono molto semplici molto fini una mia amica la Simo a cui l'ho regalata la Simona di pensieri e pasticci mi ha proprio detto ma come faccio a metterlo nella borsa poi si rovina sono anche belle così queste cosine poi si può comunque lavare perché è cotone se lo si lava velocemente anche magari si la perla in legno non si rovina più di tanto e queste sono le mie proposte che ho portato al gruppo missionario ultimo lavoro invece che vi vorrei far vedere che non è un lavoro che è un progetto che vorrei iniziare è questo adesso eccola qua la chevron baby blanket e immaginerete per chi sia questa copertina per mattias che speriamo arrivi a maggio e non prima e e quindi adesso devo devo mettermi a farla perché se poi magari nasce prima non ha la copertina no non è vero e per questa per questa copertina ho deciso di provare la daisy di drops che è un filato appena uscito io ho scelto questi colori adesso vedrò come metterli il verdino il giallino il lillino e il bianchino il pannino eccoli qua ho comprato un bel paccozzo e vedrò di iniziarla al più presto perché poi tra tutte le cose da fare sto anche cucendo un pochino ho sistemato un po' i vestiti di scena di mattia perché aveva bisogno di fare qualche adesso qua c'è il sole che mi entra da questa finestra quindi sono un po' così speriamo di aver finito e niente quindi ho sistemato un po' i vestiti di scena di mattia qui c'è Cody che mi viene a chiamare non so di cosa ha bisogno o se sente qualcuno e scusate vado ad aprirli perché questo mi disfa la porta eccomi di ritorno per concludere il video perché insomma un video disordinato come è nelle mie caratteristiche d'altronde se si chiama disordine creativo un po' di disordine ci deve essere vi stavo dicendo la coperta che vorrei fare a Mattias è questa che è 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 Blanket di Melissa Clulow di Space Tricot penso sia un pattern gratuito poi vi metto comunque il link mi scuso per i montaggi i tagli che ci saranno ma prendetemi così come sono perché la mia vita è disordinata da sempre e continuerà ad essere disordinata se avete avuto la pazienza di arrivare fino a qua io vi ringrazio e prossimamente spero di farvi vedere un disordine creativo solo sul cucito perché sto sperimentando delle borsettine che devo cucire per il gruppo missionario ma poi magari ci sarà anche qualche altro sviluppo nei lavori all'uncinetto o nei lavori a maglia e nella mia fascia ricamata vi ho già rubato troppo tempo io vi abbraccio con il mio ciuffo ormai color grigio che mi piace un botto ma mi piace un sacco anche il taglio chissà se riuscirò a riproporre con il fone con la piega questa capigliatura e niente vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video ciao cari amici e cari amiche un bacione a tutti voi